Dalla tifosa sempre presente, alla tifosa rosa nero più, diamo il benvenuto a Elenia Sanicola. Ciao Elenia. Ciao Sera. Ciao, bentrovata, ben ritrovata. Voi sapete quando Elenia è qui con noi in studio significa che è il momento per voi di giocare da casa. Un giorno a Bocca di Falco, questo contest organizzato dal Palermo, questo è già il terzo appuntamento con noi. In che cosa consiste? Insomma vi faremo vedere fra poco una fotografia in contemporanea, sarà anche sui social del Palermo, su Facebook, su Twitter e su Instagram. Tu leggerai una domanda. Ovviamente il più veloce dei tre social network, uno per ogni social network che risponderà, avrà la possibilità poi di andare un giorno a Bocca di Falco a vedere l'allenamento del Palermo. Accompagnerai tu, come al solito. Insomma, bella esperienza per i tifosi. Vince anche un tifoso il più veloce su WhatsApp. Quindi giocate anche con un nostro social, quindi Flavia avrà il compito poi di ricevere subito la risposta su WhatsApp. Invece i vincitori poi a fine gioco saranno comunicati sul sito del Palermo, ovviamente ve li faremo e ve li daremo anche noi in anteprima. Quindi Facebook, Twitter e Instagram. Io dico, perché insomma abbiamo anche un countdown abbastanza rigido, che dovremmo quasi essere pronti per partire. Quasi pronti per partire, però siccome dobbiamo ancora giocare con 40 secondi, io vi dico che oggi vi facciamo vedere un altro contest, sempre organizzato dal Palermo, però con la Lega Nazionale per la Difesa del Cane. Ne avremo con noi la vicepresidente, con Palermo Today, perché si adotta un amico rosa nero, insomma un cucciolo. Vi faremo vedere anche la foto di questo cucciolo. Allora, io direi che ci siamo quasi. Sì. Ok? Allora, salutando i nosfameli, i tecnici, tutti quanti coloro i quali rendono possibile la realizzazione della trasmissione, io dico, può andare la fotografia? Ok, regia, mandiamo la fotografia. Vai, Lenia, con la domanda. Allora, sotto quale curva? Terrenzo Barbera, il 28 febbraio 2007, Jimmy Fontana parò un rigore a Kakà. Perfetto, questa è la foto, la trovate anche sui social delle Palermo, dunque sulla pagina Facebook, su Twitter, su Instagram, cominciate a mandare pure le vostre risposte, ovviamente il più veloce per ogni social network, piccola nota, ma giusto per farvelo capire, insomma si può vincere se già avete partecipato, non potete ripartecipare di nuovo e poi la scala è Facebook, Twitter e Instagram, quindi anche se partecipate a più un contest comunque l'ordine è quello. Eccoci qua con Ilenia perché è arrivato il momento non soltanto di darvi la soluzione, ma poi leggeremo anche i vincitori. I vincitori, ve lo abbiamo già ricordato, sono comunque già sulla pagina Facebook del Palermo, però noi dobbiamo premiare anche chi ha vinto sul nostro Whatsapp, allora ricordiamo la domanda, qual era? No, la domanda era, vai vai vai, la ricordiamo. Sotto quale curva? Da Renzo Barbera, il 28 febbraio 2007, Jimmy Fontana parò un rigore a Kakà. Perfetto, allora vediamo la fotografia, questa è la fotografia e la risposta è? Sotto la curva Nord. Perfetto, quindi vincitori già ci sono, possiamo andare da Francesco Caruana, ci fa vedere anche il sito del Palermo, poi tutti i dettagli ovviamente con il regolamento e i chiarimenti sempre attraverso un messaggio magari anche con privato alla pagina del Palermo. Francesco, ci leggi i vincitori? Sì, la pagina del Palermo, ovviamente partiamo da Facebook, ha vinto Serena, Ieira, Paci e poi su Twitter Antonio Cefalù, su Instagram Danilo Sabato e poi su Whatsapp, il nostro Whatsapp, Daniele Sanfilippo. Perfetto, li ripetiamo ancora una volta anche se loro possono andarseli a vedere quando vogliono. Vado, Facebook Serena, Ieira, Paci, Twitter Antonio Cefalù, Instagram Danilo Sabato e Whatsapp Daniele Sanfilippo. Perfetto, quindi questi vincitori del contest è un giorno a bocca di falco, quindi avrete Ilenia con voi a fare un po' da guida, ci sarà anche Flavia sempre presente, quindi tifosa Rosa Nero Più e Flavia sempre presente, perché poi vi riprendiamo con lo smartphone e vi facciamo vivere, anzi ci raccontate voi le emozioni. Allora, grazie Ilenia. Grazie. Noi torniamo.